Presidente, diciottesima edizione della colletta alimentare, avete raggiunto la maggior età ma c'è sempre più bisogno di un gesto di carità per chi ha bisogno? Sì, allora l'emergenza del 2014 non è ancora terminata, sappiamo che siamo stati costretti a giugno a fare un'edizione straordinaria per la prima volta proprio perché i programmi della comunità europea non erano disponibili, ancora di fatto lo sono e quindi questa colletta si ripresenta con un'ulteriore occasione fondamentale per poter andare avanti nell'aiuto alle persone indigenti. Gesti come questo della colletta, una giornata che può ridare un po' vigore sicuramente a tante famiglie, al tessuto sociale non sono da trascurare ma da rafforzare, anzi addirittura da aumentare perché sono quei gesti che poi concretamente portano delle possibilità. Quindi l'invito anche per quest'anno è quello di continuare, di rinvitare tutti sabato nei 280 punti vendita in Abruzzo ad aderire alla nostra iniziativa. Saranno presenti i nostri volontari, oltre 4 mila riconoscibili dalla pettorina gialla che chiederanno i prodotti ormai consolidati, che sono a lunga scadenza e che ci permetteranno anche nei mesi prossimi di poter dare un contributo ancora concreto a chi è nel bisogno. Dai che il 29 novembre, dietro l'angolo, è la giornata nazionale della colletta alimentare! D'altino ma lascia!